E' scomparso Franco Lanzino, padre di Roberta, giovane di 19 anni, violentata e uccisa nel 1988 a Torre Mezzo di Falconara Albanese. I genitori un anno dopo diedero vita alla fondazione che porta il nome della giovane figlia. La camera ardente per l'ultimo saluto a Franco Lanzino sarà allestita martedì 10 alle 9 nella sede della fondazione per volere dell'amata moglie Matilde e dei figli che Franco adorava. Oggi si è spenta una luce in terra e si è accesa una stella nel cielo. Roberta, si legge nella pagina della fondazione, orgogliosa per i suoi primi tre esami universitari superati brillantemente mentre andava in motorino verso il mare, venne brutalmente fermata, aggredita, seviziata, violentata e uccisa. Era il 26 luglio del 1988. La famiglia attraverso la fondazione da anni lotta per il contrasto della violenza sulle donne minori. Un delitto, quello di Roberta, ancora senza giustizia. Franco ci lascia nel giorno in cui celebriamo le mamme, ci lascia nel giorno in cui celebriamo l'amore materno. E proprio nella giornata di oggi Papa Francesco ci ha ricordato che il legame tra noi e il Signore si riassume in tre verbi, ascoltare, conoscere e seguire. Questo legame con il Signore Franco lo aveva stretto attraverso una profonda fede. Lui ascoltava, conosceva, seguiva e lo faceva perché era una persona speciale. Lo faceva nel ricordo dell'amata figlia, alla quale ha dedicato tutta l'esistenza dopo la tragica scomparsa. Franco ha vissuto con dedizione e sacrificio la sua vita facendosi carico dei problemi della gente e prendendosi cura delle persone. E quanto scrive Nausicaa Sbarra, coordinatrice donne CISL Calabria. Aveva mutato il suo dolore rendendolo amore verso il prossimo. Parlava di sentimenti ai giovani nelle scuole e condannava con forza la violenza. Lo faceva anche accanto a noi nel coordinamento donne CISL Calabria. Avevamo sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione di progetti di sensibilizzazione e prevenzione della violenza contro le donne e contro i minori. Quando lo andai a trovare nella sede della Fondazione Roberta Lanzino, ricordo che mi disse, No sì, questa è la casa delle donne di Calabria. Questo era Franco, una persona dagli alti valori morali, un prezioso alleato delle donne calabresi, un padre meraviglioso che ha sempre sentito viva la figlia attraverso il suo impegno e la fondazione a lei intitolata, testimonianza dell'amore che gli bruciava nelle vene per la sua Roberta. Franco Lanzino ci lascia una grande eredità morale che dobbiamo accogliere. Non lo dimenticheremo mai. Continuerà a vivere nei nostri cuori grazie al suo esempio e attraverso la casa di Roberta, una porta aperta alla speranza per le donne di Calabria. Ciao Franco.